i plastibo hanno annunciato il loro ritorno sui social brian e stefan hanno rivelato che le registrazioni del loro ottavo album si sono concluse ufficialmente e che presto ci saranno dei concerti nel post la band si è rivolta direttamente ai fan chiedendo nel frattempo cos'altro possiamo fare per voi iscrivetevi alla mail list e vi invieremo alcune domande a cui rispondere